Benvenuto su Teleambiente a Emanuele Galoni, in arte semplicemente Galoni, cantautore che sta per far uscire il suo quarto album in studio, Cronache in un tempo sorto, e che sarà presentato in anteprima al Monk con un concerto venerdì 28 aprile. Bentrovati, bentrovati. Benvenuto Emanuele, questo è il tuo quarto album in studio dopo Greenwich, Troppo bassi per i podi e Incontinenti alla deriva. Oltretutto è stato anticipato anche da tre singoli che sono usciti. L'esercizio fisico di piangere e Buoni Propositi in realtà erano delle instant song. L'esercizio fisico di piangere racconta un po' il mio lockdown in soggettiva, diciamo. E Buoni Propositi era una canzone che è uscita fuori in dicembre, insomma per alcuni motivi anche personali. Per cui ho avuto sempre l'intenzione poi di reinserirle in questo CD, perché hanno dato il via poi a tutti gli altri brani in sostanza, che fanno parte di questo disco che è Cronache di un tempo storto. È un disco che io ho cominciato a scrivere partendo già dal titolo, al contrario degli altri tre che hai citato prima, perché volevo comporre appunto questo disco in modo quasi giornalistico, diaristico, e per cui io avevo appuntato delle cose su alcuni eventi successi nel corso di questi anni, dal Ponte Morandi, dal naufragio del canale di Sicilia e in più il lockdown. E poi c'è un altro pezzo in cui parlo e canto delle discussioni che ci sono stati tra i negazionisti e nonni. Insomma, ecco, è una raccolta di brani che ha come punto centrale quello di raccontare degli eventi accaduti, ma in realtà poi nella scrittura mi sono accorto che c'erano anche delle mie cronache personali da raccontare e quindi ho cercato di inserire anche queste, perché in questo disco, diciamo, racconto molto di me, cosa che probabilmente non ho fatto nei dischi precedenti. Tutto è pronto per il concerto di presentazione del nuovo album venerdì 28 aprile al Monk? Il 28 aprile presenteremo il disco in anteprima che uscirà comunque il 12 di maggio e in concomitanza uscirà anche Amare Magnum che è il singolo che apre, diciamo, all'album. Ok, poi per chi non ti conoscesse, insomma, noi invitiamo ad ascoltare anche sui canali streaming come Spotify o anche su YouTube i tuoi precedenti album, però c'è una cosa che accomuna tutti e tre i tuoi dischi, cioè che tu anche più o meno implicitamente citi spesso tematiche ambientaliste o animaliste. Tu ti senti particolarmente ambientalista o animalista e se tra tutti i tuoi brani c'è qualcuno che è riferito a un tema che ti sta particolarmente a cuore. Dunque, in questo tempo è difficile non essere ambientalisti, insomma. Io non credo che ci sia qualcuno che sia contro l'ambiente, anzi, l'ambiente deve essere una priorità assoluta ormai di chi fa politica ma anche di noi singoli cittadini, insomma. Beh, qualche cosa l'ho scritta, cioè diciamo qualche verso sparso in qualche canzone c'è sull'ambiente, ma anche in questo disco mi viene in mente un verso che sta in questo brano che si chiama Patrimonio dell'UNESCO in cui racconto la storia di un uomo che passa la sua vita su un tram aspettando di rincontrare una donna che aveva incrociato anni prima e il protagonista di questa canzone descrive un po' questa galleria di personaggi che abitano il tram. C'è un passaggio in cui c'è un uomo che dice, cito il verso, letteralmente, io scendo al capolinea, grido un uomo stamattina, conto i secchi sul tragitto pieni di spazzatura, voi scaricate al cesso, dice lui, l'olio usato di frittura. Questo è il verso, in questa galleria di personaggi c'è questo uomo che conta i secchi della spazzatura romana tutti i giorni, i secchi pieni, però sicuramente adesso neanche ricordo che comunque sono tante le canzoni per cui sull'ambiente ne ho scritte, ne ho scritte. Temi che mi stanno al cuore, insomma, diciamo per coloro che ascoltano le mie canzoni da anni, sanno il mio modo di scrivere, insomma, le tematiche che spaziano molto nel mondo dell'attualità. Ecco, come dicevo, in questo disco c'è una canzone sui migranti, c'è una canzone sul crollo del Ponte Morandi, c'è tutta la situazione legata alla pandemia. Insomma, mi piace osservare con il mio spirito un po' giornalistico, perché io fondamentalmente nasco un po' giornalista, perché ho avuto un'esperienza anche come corrispondente in un giornale quando avevo 22-23 anni, insomma, l'ho fatto. Quindi mi è rimasta questa cosa di raccontare, osservare, raccontare cose che accadono e che succedono.